Arriva la password in formato emoticon. Usare gli emoticon come sistema di password facilitato e intuitivo è quanto propone la compagnia inglese Intelligent Environment specializzata in software di gestione finanziaria. Le faccette, secondo i creativi della società, sono più sicure dei numeri e si ricordano più facilmente. Spesso, infatti, dimentichiamo le password perché il cervello non lavora digitalmente o per parole, funziona per immagini. No password, no lettere, sì allora agli emoticon perché le immagini sono il sistema principale di apprendimento e ricordo per l'uomo.